yuk 43 16 ciao a tutti ragazzi sono yuk e benvenuti in questo video dove mi avete molti di voi richiesto il tutorial di come installare la mod per left for dead ragazzi è semplicissimo non c'era neanche bisogno che io facessi questo video però me l'avete chiesto in tenti e io ve lo faccio allora andate sul mio video scendete su andate su mappa minecraft andate sul sito quella che io ho scaricato è questa qui la terza questa qua è 200 e passa megabyte io ci ho messo con la mia bella connessione un bel 54 minuti per scaricarla vabbè io ho scaricato questa ragazzi poi ce n'è tante altre ma sono tante altre mod mappe quella che ho usato io in questo video è questa qui quella che mi avete tanto richiesto la cliccate su download la scaricate non so quanto tempo ci impieghiate una volta scaricata ecchietela chi questo è il pacchetto lo estraete o se no lo aprite lo aprite solamente andate su start programmi tutti i programmi stavo scherzando andate su che ne so documenti ragazzi silenzio per favore non facetemi confondere andate su computer a andiamo su c andiamo su programmi o programmi per 86 dipende dal vostro pc poi andiamo su steam andiamo su steam maps andiamo su common andiamo su qua sono tutti i vostri giochi andiamo su left for dead andiamo su 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 niente no andiamo su left for dead e poi andiamo ancora su left for dead c'è la cartella addons apriamo la cartella addons prendiamo il file dentro l'archivio zip in vpk che avete scaricato e lo trascinete qua dentro capito avviate il gioco e il gioco vi funziona ragazzi è una cavolata non c'era neanche bisogno che io facessi il video però me l'avete richiesto ve l'ho fatto tutti contenti ringraziate mettete pollice in su io vi dico già prego e vi dico anche che vi voglio bene a parte quello ragazzi mi avete chiesto per la connessione non mi è tornata la connessione anche se sto caricando ultimamente uno due video al giorno ragazzi sappiate che ci sto mettendo parecchie ore per caricarli per cui è un grosso sacrificio ma non mi interessa non mi lamento lo faccio comunque da Luke e tutto ah un'altra cosa ragazzi tanti mi dicono che io sto copiando quello sto copiando quell'altro sto copiando quell'altro ancora sto copiando oh cazzo vi sto copiando porca trotta perchè sto parlando vi sto copiando niente mi stavo grattando l'occhio ah no cazzo adesso vi copio perchè vi sto grattando l'occhio avete grattato anche voi ragazzi ho detto ragazzi vi ho copiato ho detto copiato ma vi sto copiando ragazzi a tutti quelli che continuano a dire Luke copia quello copia l'altro copia ah andate a fare la cacca arriva di mare veramente ragazzi ve lo dico ve lo dico con tutto il cuore da un'altra parte però andate a cagare perchè non hanno inventato loro il gioco e ognuno è libero di fare ciò che vuole comunque sia i giochi sono tutti uguali ma i commentari sono tutti diversi ognuno ha il suo modo di fare e nessuno copia nessuno perchè se io sto giocando a minecraft e in minecraft già che faccio minecraft vuol dire che copio tutti no per cui voi che guardate me imparate a giocare a minecraft e giocate anche voi anche voi state copiando me o perlomeno io crafto un piccone ok allora tutti quelli che craftano il piccone tutti che mi copiano tutti copioni siete io non so come cavolo ragionate da Luke è tutto buon divertimento buon divertimento